Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nell'università di Nabi, io sono Carlitos, qui com'è non c'è nessuno neanche adesso perché sono qui su un gioco da browser di World of Tanks, sempre fatto per il primo aprile si chiama World of Tanks Cryfish, no, Crayfish, ma il mio inglese è un po' così cos'ha, comunque sembrano degli scarafaggi, che cavolo sono, hanno delle chele e sembra davvero un giochino divertente, io l'ho già provato ma ora ve lo farò vedere in diretta, eccoci qua allora, vediamo subito subito i controlli, controlli facilissimi per muovere il cararmato, i soliti tasti WASD per attaccare il tasto sinistro del mouse e spazio per pausa ok, iniziamo subito start livello 1 allora, muoviamo il carro così, si iniziamo a fare i peggiori danni pazzo oh 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 oh, caspato diciamo che non vada molto bene su questo gioco, eh via no, sono già morto no, sono già morto, sono già morto, via bene, direi che come inizio non è niente male riproviamolo subito subito, perché sennò qua ah ma questo muori bello i controlli non sono subito giusti via, muori tu, muori tu muori anche tu muori mazzo oh, e tu mazzo quanta gente c'è qui che bel rumore che fanno però quando li uccidi papà papà morto anche lui ora andiamo qui per andare al livello 2 uh, cambiato carro bene, livello 1 completato un bel po' di punti mazzo inizia a diventare grossi, eh no oh, ci sto prendendo un pochino la mano giriamo il carro va che bravo vai, via anche questo via anche tu mazzo, è pieno di gente qui però oh madonna, oh madonna questo è vicino cesso via 1 via 2 3 4 e 5 eccoci qui sono già arrivato al livello 3 non mi è arrivato così tanto questo che carretto è eccoci nel livello 3 uh, questo corre un pochino di più ecco qui la prima spiattellata un po' splatter questo gioco, eh plaf papà papà no che culo oh madonna mi preferisco a sparare da dietro oh madonna, questo è grosso meno male eh, ma chi sono? oh oh questi sono grossi, madonna via, 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 via che cos'è quella cosa ghiacciata? gelato? ah, non ho bisogno di quelli li ho battuti anche senza cazzo livello 4 mamma mia ho paura subito oh 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 via, 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 via via no questi qui mi stanno arrivando addosso questi mi uccidono muoio, muoio, muoio via, scappa Carlo scappa Carlone prima uccidiamo quelli che mi stanno per arrivare addosso poi uccidiamo tutti gli altri ecco qui un altro che mi arriva addosso oh, come corre questo ne ho un po' troppi attaccati eh che dite ragazzi mi sembra il momento giusto di fotterli un po' madonna, ma chi sono li uccido anche senza quelli che lo blocco tutto oh, so, però c'è la vita vuole la vita prima lo blocco mi sembra giusto però vai no, un punticino li ho tolgo dopo piglio tutta la vita ucciso con un colpo grande livello 5 aiuto questo diventerà subito difficile lo so oh, no li one shot questi grossi loro aia liscio c'è 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 oh 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 morto nell'angolina no, no, no morto tutti porca miseria bene ragazzi questo giochino divertente lo potete trovare sul forum di world of tanks il forum ufficiale basta che scrivete su google www.forum.worldoftanks.eu e lo trovate subito quindi ragazzi questo video finisce qui vi auguro una buona giornata e delle gran belle partite ciao a tutti ragazzi ciao a tutti 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 ciao a tutti